Macelleria da Davide, la migliore scelta di carni nazionali, selezionate grazie alla grande esperienza della famiglia Cifariello, nel mercato da oltre 40 anni. Dalla scottona al vitello nostrano, dal pollo allevato a terra al maiale chilometro zero. Qualità, ricerche e creatività nei preparati di carne, realizzati seguendo ricette tradizionali, polpette, hamburger, tramezzini di carne, arrosto di pollo e di tacchino. Macelleria da Davide, in piazza Palombara Sabina 7, all'uscita della Metro Libia. Grazie a tutti.